Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati con di prima mattina, nuovo appuntamento della nostra rassegna stampa, oggi è l'edizione di mercoledì 8 aprile, andremo a leggere insieme come di consueto i quotidiani locali, i quotidiani regionali per le notizie che riguardano l'Abruzzo, poi ovviamente posteremo il focus anche sul resto del nostro paese con le principali notizie di carattere nazionale, ovviamente anche oggi con l'attenzione puntata sull'emergenza coronavirus e con tutte le notizie che riguardano appunto la fase storica che stiamo attraversando, dunque sarà un'edizione molto ricca di notizie e di articoli da andare a leggere insieme, direi dunque di iniziare subito con il nostro consueto sguardo sulle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola, partendo dalla prima pagina del quotidiano Il Centro con il classico titolo su due righe di questo periodo, contagi, continua la discesa, per gli esperti svolta a maggio, in Italia si va verso una riapertura in due fasi, prima le aziende, poi gli spostamenti. Per quanto riguarda l'Abruzzo i dati di ieri dicono che calano ancora i ricoveri e i decessi, ma l'assessore Veri continua a lanciare il messaggio, il solito messaggio di prudenza, continuate a restare a casa. Ecco il solito riepilogo numerico della situazione legata al coronavirus, in Abruzzo si parla di 136 guariti in totale dall'inizio dell'emergenza, 172 invece è il numero dei deceduti per un totale di casi che ha raggiunto quota 1799. La fotografia invece per quanto riguarda l'Italia parla di 94.067 persone attualmente positive, un totale di guariti che ha raggiunto 24.392 persone, mentre i deceduti sono 17.127 ed un totale dei casi dall'inizio dell'emergenza ad oggi che raggiunge quota 135.586. Vediamo sempre sulla prima pagina del centro anche gli altri titoli. Questo intaglio centrale ci porta sempre sul territorio terramano perché c'è una notizia che riguarda l'ospedale Mazzini, secondo l'articolo che poi andremo anche a vedere all'interno, in realtà è un'intervista realizzata al direttore sanitario di presidio del Mazzini, Romualdi, che dice che l'ospedale non è più un focolaio, nella struttura sanitaria la media dei casi positivi è del 6%, mentre quella nazionale raggiunge il 10%. In pratica sono stati fatti tamponi ormai quasi a tutto il personale e su 1.123 tamponi eseguiti sono risultati positivi 65 operatori sanitari, che è un numero comunque alto, ma appunto secondo la statistica riportata dal centro inferiore alla media nazionale. A proposito di tamponi, si attendono gli esiti degli ultimi realizzati a Castilenti, lo leggiamo qui, nuovi tamponi a Castilenti, mentre a Castiglione, Messerraimondo, stiamo parlando della zona rossa della Valfino, i malati salgono a 74. Ieri c'è stato un ulteriore incremento dei contagi in quello che rimane nel centro con il maggior numero di persone contagiate rispetto alla popolazione. A Teramo c'è l'assessore al sociale Ilanria de Sanctis, che lancia una sorta di appello, comunque un invito, una raccomandazione, non vergognatevi a chiedere i buoni spesa, perché siamo nella fase delle domande, ma anche già dei primi buoni consegnati alle famiglie che ne hanno fatto richiesta. Quindi l'assessore dice non vergognatevi a chiedere i buoni spesa, perché c'è anche questo aspetto emotivo, psicologico, da parte di chi ne avrebbe bisogno. La nuova ordinanza emanata ieri dal Presidente della Regione Marco Marsilio, niente spesa nei festivi, invece le edicole restano aperte. Ordinanza del Governatore che stabilisce la chiusura di negozi e supermercati di domenica e anche a Pasquetta. Aperte farmacie, parafarmacie ed edicole. Per quanto riguarda il sistema imprenditoriale abruzzese, aiuti economici a 90.000 attività, sono quelle ferme attualmente per la stretta, la serrata dichiarata a livello nazionale contro il coronavirus. Poi c'è anche l'aspetto amministrativo, politico-amministrativo con le elezioni comunali che sono state rinviate di sei mesi, sempre per quanto riguarda le disposizioni del decreto governativo da Chieti ad Avezzano, questi principali comuni che dovevano tornare al voto e che appunto andranno alle urne in autunno tra ottobre e dicembre. Ultimo titolo dalla prima pagina del Quotidiano Il Centro, meglio ultimi titoli. A Giulianova, mercato del pesce, prezzi in calo, aumentate le vendite nella seconda asta dopo lo stop. E poi una notizia che è arrivata ieri nel pomeriggio, basket Serie A2 annullato il campionato, poi è arrivata la notizia anche dell'annullamento della Serie A, il Roseto è salvo, ancora non si conoscono le disposizioni, le regole per la prossima stagione, ma classifica alla mano, Roseto è salvo perché comunque non occupava l'ultimo posto, se si procederà comunque a retrocessioni e promozioni, questo lo si definirà più avanti. Poi c'è la testimonianza con l'intervista Gianluca Ginobile, componente del trio Il Volo, cantante rosetano, eravamo in tour, siamo stati fortunati Ginobile, adesso da qualche giorno è rientrato nella sua Montepagano. Questa è la prima pagina del Quotidiano Il Centro, andiamo a recuperare con un attimo di pazienza la prima pagina del Quotidiano Il Messaggero per dare uno sguardo appunto alle notizie, ai titoli d'apertura sia dell'edizione nazionale che di quella regionale. Partiamo proprio dall'edizione nazionale del Messaggero, riaperture prima le aziende, questo è il titolo del Quotidiano Romano, il governo prepara due fasi dopo il 13 aprile, gli scienziati però continuano a frenare anche se il Premier Conte dice si deve ripartire. Per l'Istituto Superiore di Sanità finalmente si vede la discesa, ieri c'è stato l'aumento più basso nel numero di nuovi malati dal 10 marzo ad oggi, l'indice dei contagi è sotto 1, dunque una serie di notizie confortanti che però non, come dire, fanno sbilanciare più di tanto la comunità scientifica, mentre ovviamente la politica e le istituzioni si domandano come iniziare con le riaperture. L'OMS intanto fa retromarcia sulle mascherine e danno falsa sicurezza, poi vedremo meglio cosa si intende. Nella notte duello in Europa, ma c'è uno spiraglio, battaglia nell'Unione Europea sui Covid Bond, l'Italia continua a dire no al MES. Voglio subito andare a vedere la prima pagina dell'edizione abruzzese del Messaggero, così torniamo sui fatti di casa nostra. Trego effimera, non è finita, coronavirus torna a salire la curva dei contagi dopo i dati confortanti di inizio settimana. Nuovamente colpita la Valfino, abbiamo detto prima che c'è stato un incremento consistente sempre nel paese di Castiglione e Messerraimondo. Appello dell'assessore Veri, state a casa ed evitate spostamenti. Pescara in lutto per due imprenditori, l'addio a Bianco e Marcantonio, due delle tante vittime del coronavirus. Nella nostra regione è ancora Pescara, un'altra suora deceduta, ora è allarme per RSA e comunità. La ASL dispone tamponi in due strutture, si temono nuovi focolai. C'è stato intanto anche un grave incidente, un incendio che ha fatto crollare un palazzo, una casa terremotata a Loreto Aprutino, una tragedia carbonizzata tra le macerie. C'era un uomo Alessio Colangelo di 55 anni che aveva occupato l'immobile dichiarato inagibile dopo il terremoto del 2009. A proposito di terremoto, l'altro sisma, cioè quello più recente del 2016 e 2017, in arrivo a 26 milioni per i comuni, l'annuncio è stato dato dal commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini. Titoli nel taglio alto sottotestata, il racconto io steward si voli all'Italia per portare a casa i connazionali, è un abruzzese che parla della sua esperienza. Famiglie ritrovate, pranzo a casa e film con i figli, la vita cambiata dei manager nell'articolo nelle pagine di Teramo di Maurizio Di Biaggio. E poi lo sport, serie Bigalano sarà il leader del Pescara che riprende il Robben della Puglia, punto fermo con la sua media goal, racconta la sua speciale quarantena in città, assieme alla fidanzata e al cane. Tra poco torneremo sulle notizie del messaggero. La prima pagina del quotidiano della città continua ad ospitare la campagna promozionale Io Leggo a casa, il testimonial di oggi è, lo vedete, lo riconoscete, il preside della Facoltà di Scienze e della Comunicazione dell'Università di Teramo, Cristian Corsi, con un messaggio, l'apprendimento è un tesoro che seguirà il suo proprietario ovunque. Dunque questa è la classica prima pagina di questo periodo del quotidiano della città che continua a sponsorizzare la campagna Io Leggo a casa con gli abbonamenti in regalo ai lettori del quotidiano Teramano. E poi ci sono ovviamente le notizie all'interno che vedremo più tardi perché adesso tornerei invece sul quotidiano Il Centro, tornerei al centro per andare con le notizie interne che riguardano l'Abruzzo. Diminuiscono ancora i ricoveri, lo abbiamo detto i dati di ieri, c'è stato un aumento del numero dei contagiati ma i ricoverati continuano ad essere sempre meno, l'assessore Veri ma bisogna restare a casa. Sui nuovi 683 tamponi è il risultato positivo l'11,44%. Il virologo Fazzi servono tempo e pazienza. Ecco la mappa del contagio, 337 i ricoverati non in terapia intensiva, 3 in meno, 67 invece con un incremento di un paziente i ricoverati in terapia intensiva. Il bilancio delle vittime sale a quota 172 con i tre decessi ufficiali registrati ieri. In arrivo a pescare nuovi macchinari tra cui un kit per effettuare test rapidi in 20 minuti. Parla ancora l'assessore Veri, i dati sembrano mostrare una leggera inversione di tendenza ma non siamo ancora fuori pericolo dunque evitate gli spostamenti. Sono arrivate ieri le prime mascherine dalla Russia, il famoso carico che era rimasto bloccato per tanti giorni a Mosca in aeroporto, le prime 120.000 sono per gli ospedali. Si attende l'arrivo di 700.000 dispositivi FFP3 per i sanitari a contatto con i pazienti. Più gravi il presidente Marsilio che vedete nella foto, proprio ieri nel ricevere il primo carico di mascherine. Troppa carenza in questi giorni, il personale sanitario deve lavorare in sicurezza. Da questo punto di vista sembra insomma che man mano che si vada avanti la situazione migliori anche a livello nazionale. Ieri c'è stata una conferenza stampa del commissario Arcuri che ha dato numeri e rassicurazioni sull'ampia disponibilità di mascherine per i prossimi giorni, per le prossime settimane. Intanto il nuovo ospedale Covid che verrà realizzato a Pescara, 3 milioni da Banca Italia. Il governatore Visco scrive a Marsilio annunciando il contributo liberale della Banca d'Italia. Il presidente della regione intervento necessario per il progetto. E a proposito sempre di mascherine, da Pechino arriva un carico di 15 mila pezzi, iniziativa dell'associazione No Profit Abitaglia Cina. I dispositivi di protezione individuale destinati anche all'Aquila, Roseto e Capitignano. Spogliamo ancora le pagine del centro. Gli interventi economici, gli aiuti su misura per 90 mila attività chiuse in Abruzzo, dalle coperture sui prestiti al congelamento dei fallimenti, le note esplicative del DPCM per stabilire come muoversi. C'è anche un'infografica che dà il senso anche ai numeri delle attività chiuse in Abruzzo. Sono 263 mila 459 i lavoratori fermi, secondo il Cresa, le province più colpite quelle di Pescara e l'Aquila. Lo vedete qui, per esempio, allora in generale in Abruzzo sono 90 mila 607 le attività chiuse per un totale appunto di addetti pari a 263 mila 459. A fronte invece di attività non sospese di 58 mila 105 che impiegano 165 mila 841 addetti. Per quanto riguarda le singole province, vedete c'è il dettaglio, Teramo, 22 mila 833 imprese chiuse con 67 mila 604 addetti fermi. Sono 13 mila 234 invece le imprese non sospese che danno lavoro a 38 mila 158 persone. Dunque questa è la situazione economica in questo momento della nostra regione. Supermercati chiusi anche a Pasquetta, la nuova stretta della regione con l'ordinanza emanata ieri sera dal presidente Marsilio. L'assessore Febbo specifica restano aperte soltanto farmacie, parafarmacie ed edicole. Le ulteriori misure di contenimento sono valide già da ieri e resteranno in vigore fino a nuove disposizioni. Scopo della regione è evitare assembramenti fuori dai supermercati. Parla Febbo, i giorni festivi sono quelli in cui le famiglie sentono di più la tentazione di uscire. Con un sacrificio oggi possiamo risolvere i problemi di domani. Questo è il messaggio lanciato dall'assessore alle attività produttive. Taglio basso da Chieti ad Avezzano, voto tra sei mesi. Altri 58 comuni abruzzesi andranno alle urne tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. I principali appunto Chieti e Avezzano, ma ci sono tanti piccoli comuni anche nella provincia di Teramo, non molti per la verità, 4 o 5. Adesso non ricordo esattamente il numero dei comuni chiamati al rinnovo delle amministrazioni in provincia di Teramo. Proseguiamo. Fuga verso le seconde case, blindati i borghi e la costa, scatta l'allerta. La regione, obbligatorio comunicare gli ingressi fino a martedì 14. A Rocca di Mezzo, nell'Aquilano, multati 5 giovani per una grigliata nei pressi di un rifugio. Ancora adesso il pianeta scuola. Cosa prevede il decreto? Esami senza scritti. Cambiano i punteggi, apposite ordinanze dovranno regolamentare le modalità delle prove, stessi libri di testo alla ripresa a settembre. Parla anche la preside del convitto Cotugno dell'Aquila che promuove il decreto. La maturità prende esempio dal sisma. La didattica a distanza ha imposto un nuovo modo di lavorare, una riprogettazione dei percorsi di apprendimento. Tutti i docenti sono umani e disponibili. Abbiamo ascoltato anche in ambito locale, nel tiramano, tante testimonianze di docenti e presidi che si sono riconvertiti, per così dire, alla didattica a distanza. C'è tutto poi il capitolo dell'Europa per gli aiuti, ma magari lo vediamo più tardi, tornando anche sulle pagine nazionali del messaggero, la situazione in Italia, anche a livello di contagi e di prospettive per le riaperture. Noi continuiamo a sfogliare invece le pagine del centro per arrivare sulla cronaca locale di Teramo. La situazione in provincia, parliamo sempre di coronavirus, il Mazzini non è più un focolaio, contagi sotto la media nazionale. Il direttore sanitario Romualdi, 1123 test al personale, solo il 6% positivo, mentre in Italia è il 10%. Tamponi a tutti i pazienti che si ricoverano. Lunedì apre la chirurgia Covid e c'è un'attacca apposita, che è questa esterna, piazzata all'esterno del Mazzini, un'attacca mobile per tutti i pazienti affetti da Covid-19. Sono le novità e lo scenario che si presenta in questo momento al Mazzini di Teramo, dopo le grandi polemiche delle ultime settimane sul dilagare dei contagi tra operatori sanitari e personale. Romualdi, Pietro Romualdi, direttore sanitario del presidio ospedaliero, ricostruisce quanto accaduto e tranquillizza sulla situazione attuale nel principale ospedale della provincia. Ancora altri titoli. A caccia di infermieri per la RSA Giulianova, la RSA di Bivio Bellocchio, che dovrebbe essere pronta dentro un paio di settimane per raccogliere pazienti in via di guarigione, comunque che non necessitano di ricovero in ospedale. Parla il presidente della cooperativa Filadelfia, Erso Nori, che fa parte del LATI, che gestirà il personale di questa RSA. Dice difficile trovare gli infermieri, ce ne servono sei. Ancora con le notizie terramane, buoni spesa, ecco la notizia che avevamo trovato anche in prima pagina. L'assessore Larele Santis, che vedete qui in foto con tanto di mascherina, nessuno si vergogni, evase le prime 66 richieste delle 500 domande al comune di Teramo. De Santis dice molte sono errate e stiamo richiamando per farle compilare. Bene, abbiamo ascoltato l'assessore Larele Santis anche ieri nel corso dei nostri telegiornali. Continuano le numerose iniziative di solidarietà per aiutare famiglie e personale sanitario, ci sono degli esempi e delle foto anche riportati in questo articolo dedicato. E poi invece si prosegue con la situazione sul territorio, la zona rossa della Valfino, nuovi tamponi a Castilenti, a Castiglione 74 positivi. Il sindaco Giuliani, il sindaco di Castilenti, attende i risultati dei test fatti nella RSA dopo un deceduto, mentre il primo cittadino d'Ercole di Castiglione Messerremondo, insieme ai consiglieri, donano uova di Pasqua a tutti i bimbi. Davvero una bella iniziativa che ha fatto felici tutti i bambini di Castiglione Messerremondo in questo periodo così difficile e triste per l'intera comunità. Uova di Pasqua a tutti i bambini. I controlli in giro senza motivo, altre 51 multe a Pasqua, spiagge vigilate da sei pattuglie della Guardia Costiera. Altre notizie invece che ci portano su altri argomenti. Finiti i lavori, da domani riapre Corso De Michetti. Siamo a Teramo, terminati nuovi marciapiedi nel tratto da Porta Reale a Via dei Tribunali. L'ordinanza prevede il ripristino dei sensi unici in Via Sant'Antonio e Via Cirillo. Non si disputerà la Coppa Interamnia quest'anno, ma rimane il finanziamento per l'edizione 2021. La Regione ha stanziato 50 mila euro, lo ha confermato il capogruppo della Lega Pietro Quaresimale. Le crisi e le vertenze VECO e ATR, 200 persone senza stipendio, la Regione intervenga subito. FIOM CGL e FIM CISL chiamano le istituzioni a farsi carico della sorte dei dipendenti delle due aziende. In entrambi i casi tarda la liquidazione della cassa integrazione. Fate presto, la situazione precipita e c'è timore anche per disordini. Turismo, prime strategie per la ripresa. A Tortoreto il comitato ha analizzato la difficile situazione. Parola d'ordine, ripartire appena possibile. A Giulianova mercato ittico vendite in ripresa e prezzi in calo. Ieri c'è stata la seconda asta dopo la lunga interruzione dovuta al maltempo. Sui nastri due tonnellate e mezza di pesce, tutte acquistate da 27 commercianti. Sempre a Giulianova il bilancio sui buoni spesa, 200 le richieste. Lunedì scorso è scaduto il termine per le domande. Ora via alla consegna. Chiudiamo con gli ultimi titoli che riguardano la provincia di Teramo. A Silvi tamponi a tutti i familiari dei deceduti. Si tratta degli anziani morti in casa per i quali non è stato accertato il Covid. Successivamente toccherà a medici di famiglia, infermieri e volontari. A Roseto invece polemica sulle tasse azzerate. PD e Tagliaviva contro la proposta lanciata da Marcone per Aloisi e solo sciacallaggio politico. Nel taglio basso due notizie. Una da Pineto, Social Market. Arangiaro dona 5.000 euro e l'altra da Atri. Con il Comune che ha raccolto 50.000 euro per l'ospedale Covid San Liberatore, fornendo anche altri dati. 300.000 euro il totale della raccolta di solidarietà. 89 ricoverati finora, 93 dimessi e due pazienti estubati. Queste erano le notizie da Teramo, dalla provincia di Teramo. Andiamo a dare rapidamente uno sguardo anche alle altre province e agli altri territori. Montesilvano sempre emergenza coronavirus. Contagiate anche due bambine in quarantena con i genitori. Dopo qualche giorno di tregua altri sei casi in città che portano a 102 il numero dei cittadini infetti. E ieri sono state oltre 130 le chiamate al numero verde del centro operativo per chiedere assistenza. A Pescara, ucciso dal virus a 58 anni, lutto in città, muore dopo 20 giorni in ospedale Antonello Bianco, sportivo che praticava corsa e sci, dunque senza particolari problematiche di salute. Era cresciuto nella zona di Piazza Duca dove il padre ha gestito per anni l'edicola della zona. Lascia due figlie. La tragedia invece di Loreto Aprutino dovuta alle fiamme, al crollo di un edificio inagibile. Muore a 55 anni durante la notte. Prigioniero della casa in fiamme, nel corpo di Alessio Colangelo, ritrovato dopo ore dai vigili del fuoco nell'abitazione inagibile dal 2009. Il sindaco dichiara in paese lo abbiamo aiutato tutti, ma tra gli amici della vittima c'è chi accusa. È stato lasciato solo. A Chieti, l'ordinanza del comune, obbligatorie le mascherine, scattano multe fino a 400 euro. In negozi, uffici, banche e farmacie si può entrare solo indossando i dispositivi di protezione. Il sindaco di Primio dice che se non li trovate potete coprirvi la bocca e il naso anche con sciarpe e fulari. Insomma, un po' le stesse indicazioni date anche dalla regione Lombardia, che però non trovano il parere favorevole della comunità scientifica. All'Aquila la prevenzione, tamponi eseguiti stando in auto e analisi effettuate anche in città. Ha aperto ieri il triage di malattie infettive che si attrezza per il test veloce alle persone con i sintomi, pronti anche i medici per l'assistenza domiciliare. Lutto nel mondo della cultura. In Abruzzo vale Peligna, in lutto appunto a Dio Pallozzi, protagonista dell'arte. Aveva 95 anni, fu esponente di spicco della pittura contemporanea, alla ribalta alla Biennale di Venezia e creatore del premio Sulmona. L'intervista a Gianluca Ginobile del volo. Il volo era in tour, siamo stati fortunati, sono fiero dell'Italia. Il tenore del trio è tornato dagli Stati Uniti a Roseto, io, Piero e Ignazio siamo stati in isolamento proprio perché rientrati dal tour negli Stati Uniti. Andiamo a chiudere con le notizie sportive invece, con il presidente del Pescanra, Sebastiani. Pensiamo al rimborso degli abbonati, stipendi, abbiamo pagato febbraio, ora aspettiamo prima di corrispondere le restanti. Mensilità, c'è dunque l'ipotesi del taglio degli ingaggi, se ripartirà il campionato faremo delle valutazioni sugli emolumenti insieme a tutti i nostri tesserati. Niente sciacallaggio, per quanto riguarda il futuro, il prossimo anno la riduzione delle spese sarà drastica ovunque, crolleranno le sponsorizzazioni, gli incassi e tanto altro. Per quanto riguarda la Serie C, il terreno si allena in casa e coinvolge i tifosi sui social, anche per la terza serie si aspetta il destino del campionato e del futuro della stagione. Intanto hanno deciso nel basket di interrompere, sospendere definitivamente il campionato di A2, Roseto mantiene la categoria, la FIP annulla anche il campionato di Serie A, si pensa anche in questo caso al taglio degli stipendi. Ed è tutto per quanto riguarda il quotidiano Il Centro, siamo arrivati al momento della nostra pausa per vedere insieme le previsioni del tempo e poi torneremo con la rassegna stampa. Un saluto da Marco e buon mercoledì. Anche nella giornata di oggi non ci saranno novità e ormai quasi certamente il tempo stabile mite proseguirà fino a Pasqua e Pasquetta. Su quest'ultima ci sono ancora dei dubbi ma vanno scevando giorno dopo giorno. Vedremo nei prossimi aggiornamenti se potrò darvi la certezza assoluta di una giornata di Pasquetta soleggiata e serena. In Abruzzo per oggi sole e cielo sereno quasi su tutta la regione. I venti risulteranno deboli di direzione variabile sulle zone interne e a regime di bellezza sulle zone costiere. Il moto ondoso sempre molto ridotto addirittura di estrema calma. Infine un'occhiata alle temperature. Le massime di oggi comprese tra 13 e 18 gradi e le minime della prossima notte sempre molto frizzanti con le conche aquilane in cui si scenderà vicini allo zero e le zone costiere mitigate dal mare che invece toccheranno gli 8-9 gradi. Buona giornata a tutti voi. Eccoci alla seconda parte della nostra rassegna stampa sempre in diretta con Di Prima Mattina. Abbiamo letto prima la rassegna stampa riguardante il quotidiano Il Centro. Proseguiamo e andiamo a spostarci sul messaggero, l'edizione Abruzzo del quotidiano per le notizie che riguardano il nostro territorio. Abbiamo già in apertura dato uno sguardo alla prima pagina, dunque entriamo subito nel vivo con le pagine interne. Ripartiamo ovviamente dalla situazione regionale. I contagi ancora stabili ma l'assessore Veri avvisa. Non è finita. Dopo i 18 di domenica, ieri la curva ha fatto registrare altri 78 positivi. Il presidente Marsiglio, l'ordinanza di ieri negozi chiusi nei festivi, cambia la governance referenti ASL. Lo si spiega meglio all'interno. La Veri pensa a qualche modifica nella governance dell'emergenza. Arriveranno infatti dei referenti territoriali nelle varie ASL. Arrivano ulteriori correttivi. Ci sono notizie ancora che riguardano la regione. L'Iris, l'assessore che ha deciso di tornare a fare il medico anche a lavorare in ospedale part time e parallelamente al proprio incarico di assessore regionale. Ieri ha spiegato il perché di questa sua scelta. Ecco la mia verità. Gratis in ospedale. Ma la ASL fa retromarcia. Ha revocato il rientro. Nel taglio basso l'economia studio Cresa. In Abruzzo sono fermi 90.000 imprese e 263.000 lavoratori. L'abbiamo visto anche prima con i dati riportati sul quotidiano Il Centro. L'emergenza pescarese. Un'altra suora morta. RSA è comunità sotto controllo. Rina Vittoria era stata contagiata nell'istituto di via del santuario. Verificate le residenze per anziani. Chieste tute e mascherine. L'ho detto Maggitti, Carlo Maggitti, coordinatore della protezione civile comunale di Pescara. E Pescara dall'addio l'imprenditore Marcantonio guidava una famiglia con interessi in agricoltura e altri campi. Sport in lutto anche per Antonello Bianco. L'epidemia nell'aquilano. Covid-19, triage dedicato e tamponi in laboratorio. I pazienti con sospetto coronavirus potranno fare il test anche in auto. Deramo annuncia la svolta di agnosi. Possibili 80-100 campioni al giorno. Zero casi invece all'aquila. 500 controlli eseguiti sugli operatori sanitari. Siamo invece a Teramo. Contagiati due fratelli. 27 nuovi casi. Intubato. Veterinario che lavora nella Valfino. Il dentista, il fratello, era già ricoverato. Le sue condizioni non sono gravi. Dunque si tratta, lo spiega l'articolo, di due fratelli di notaresco. Uno fa il veterinario in servizio per la ASL anche nei comuni della Valfino, che è stato trasportato ieri in terapia intensiva nel Covid Hospital di Atri. Mentre tre giorni fa, sempre a causa del coronavirus, è stato ricoverato anche il fratello dentista. Al momento le sue condizioni non destano preoccupazione. I sindaci di Silvio e Roseto chiedono tamponi alle categorie a rischio per le feste di Pasqua disposti in maxi controlli su strade e spiagge. Possiamo andare ancora avanti. Il titolo principale che riguarda pescare in un mese al COC 4.000 chiamate dramma indigenti per informazioni su spostamenti e assistenza ai malati. 150 telefonate al giorno. La tragedia di Loreto Prutino muore sotto le macerie dell'edificio in fiamme, il rogo e il crollo causati dal camino che l'uomo usava per scaldarsi. La vittima è Alessio Colangelo, 55 anni. Senza casa si riparava in quello stabile. All'Aquila. Le mascherine arrivano in volo, esercito in campo contro il virus. Come nel sisma del 2009 i militari sono in prima linea nel supporto. Per il momento la priorità è data dal reperimento dei dispositivi di protezione. Serve la zona rossa. La Casini non molla. Il sindaco di Sulmona contro Marsilio. Sgarbo istituzionale di qualcuno che ha deciso di assumere un atteggiamento superficiale. Situazione delle San Raffaele non sotto controllo. È ancora in corso la mappatura delle oltre 150 persone da me imposta con ordinanza. Dunque c'è questo scontro istituzionale tra il sindaco di Sulmona Anna Rita Casini e il presidente della regione Marsilio. A Chieti per entrare in uffici e negozi d'obbligo usare la mascherina. Dice di dover raccudire l'anziana madre, 27enne smascherato e multato in strada. Questo è un caso particolare ovviamente legato ai controlli. Test Covid nel laboratorio dell'università. 17 letti di subintensiva. Dati gratis alla AS. Dunque queste le notizie principali che riguardano Chieti. Eccoci invece a Teramo. Covid le famiglie ritrovate. Finalmente pranzo a casa. Quanto ha dichiarato l'imprenditore Cesare Zippilli che è il presidente di Confindustria. Teramo è la prima volta che vedo un film con mio figlio seduto sul divano. Poi c'è la testimonianza del rettore dell'università Dino Mastrocola. Torno presto e ora posso anche guardare le serie tv. Evidentemente è un appassionato il rettore. E poi nel tondo il presidente del Teramo Calcio, imprenditore Iachini, Franco Iachini. Sabato e domenica senza partite. Per Iachini questo è un periodo di riflessione. Nel calcio il territorio non ha risposto. Forse vendo più che altro insomma in dubbio l'iscrizione per la prossima stagione. Ha avuto modo di parlarne Iachini anche alla nostra trasmissione J Live. Buoni spesa a Teramo. Tante domande sbagliate il comune contatta chi ha fatto errori. Nel taglio basso la questione lavoro alla TR e alla VECO. Lettera a Marsilio dei sindacati. Lavoratori alla fame. Di spalla i balneari. Almeno fateci pulire le nostre spiagge. Quanto chiedono i concessionari delle spiagge appunto in vista di una eventuale apertura della stagione estiva. Al momento ci sono ancora tanti detriti accumulati sulla battigia a causa delle mareggiate dell'ultimo periodo. E poi per quanto riguarda Giulia Nova Arboretti del cittadino governante Sprona il sindaco fornire mascherine a tutti. La pagina sportiva. Nuovo pescare galano leader. Il Robin di Puglia sarà appunto fermo anche per il futuro con la sua media gol. Si è rivelato lo stacanovista del gruppo. Cerco di imparare qualcosa in cucina. Questo per quanto riguarda il tempo a disposizione in questo periodo di quarantena. Teramo calcio. Contratto tedino. Pesa sul bilancio. Il Teramo deve trovare una soluzione per l'ingaggio biennale dell'ex allenatore. Esistono molte perplessità per quanto riguarda anche la futura Fideiussione. Ovviamente sono i temi del futuro dell'incertezza legata alla ripresa e anche alla sostenibilità economica della Senrie C. Quelli che tengono banco in questo momento. Per quanto riguarda la D. Silva, il tecnico della Vastese. Squadra ferma ma bisogna ripartire. L'allenatore dice mai vista un'emergenza così dura da superare. Poi ci sono le sospensioni, gli stop definitivi. Si ferma anche il basket. Rosietto stop. Il presidente Norrante commenta. Finalmente presa la decisione che avevamo suggerito un mese fa. Ma è finito anche il campionato della palla a mano. La stagione finita decide la federazione. Così come è accaduto anche per il basket. La decisione è avvenuta da parte della federazione. Dunque si legge con riferimento alla A1. L'assegnazione dei titoli di campione d'Italia e la qualificazione delle coppe europee avverranno attraverso la disputa di una Final Four in sede unica a giugno. E in caso di mancata disputa delle Final Four i titoli di campione d'Italia non verranno assegnati. Per i campionati delle abruzzesi Lions Teramo e Nuova HF Teramo cioè la A2. Il Consiglio federale ha proclamato le promozioni in serie A1 maschile di Molteno, Cingoli e Albatro e in serie A1 femminile di Leonessa Brescia, Guerriere, Malo, Cingoli ed Erice. Non avrà luogo invece alcuna retrocessione da serie A1 e serie A2 maschili e femminili. E dunque le formazioni terramane parteciperanno ancora al prossimo campionato di serie A2. Queste le decisioni prese dalla federazione gioco handball per come dire definire i campionati in corso e poi sospesi a causa dell'emergenza coronavirus. Andiamo adesso con il quotidiano La Città. Eravamo fermi appunto al quotidiano La Città con anche in questo caso i dati di ieri. Torna a salire la curva dei contagi più 78, dati condizionati probabilmente dal numero di tamponi analizzati e dai luoghi di provenienza. L'economia fermi 263 mila lavoratori e 90 mila imprese. Il fatturato delle aziende bloccate dalle misure antivirus è pari al 47% del totale regionale. C'è un chiarimento dell'INA. Il direttore regionale comunica che la tutela assicurativa aspettante nei casi di contrazione di malattie infettive parassitarie negli ambienti di lavoro opera anche nei casi di infezione da Covid-19 contratta in occasione di lavoro. Dunque è coperta anche, insomma, i lavoratori sono coperti anche dall'assicurazione di infortuni e malattie. Sempre per quanto riguarda il lavoro, cassa integrazione in deroga, da oggi le istanze. Tutte le domande verranno esaminate a prescindere dal giorno in cui verranno presentate sulla piattaforma. Raccolta fondi per l'Italia lontano dall'Italia. L'idea del teramano Damiano Crognali, rimasto bloccato in Kuwait attraverso una podcast masterclass. Ancora notizie dal quotidiano la città. Buoni spesa, 66 domande vase su 530 pervenute al comune di Teramo. L'assessore De Sanctis, purtroppo una parte delle domande pervenute non sono state compilate in modo corretto. E come già spiegato, si stanno contattando proprio le persone che hanno sbagliato a compilare le domande per farle presentare di nuovo. A Roseto di Girolamo chiede test ai dipendenti comunali. Richiesta del sindaco alla direzione generale della ASL. Ad altri invece 10 nuovi contagi in un giorno. Giulia Nova, un riferimento per le famiglie in difficoltà. La storia del dono di Maria, associazione in prima linea durante l'emergenza sociale. Taglio basso, sei nuovi casi segnalati dalla ASL a Castiglione Messerraimondo. Un altro cittadino di Montorrio contagiato. Il sindaco Facciolini ammette un caso che crea maggiore apprezzione rispetto ad altri. Tortoreto prova a programmare la stagione. Operatori e amministrazione già a confronto per garantire servizi e allo stesso tempo sicurezza in vista dell'estate. Le pagine poi dedicate allo speciale scuola. Viaggio nella didattica al tempo del coronavirus. Save the Children teme il rischio deficit. Il mancato accesso alla didattica a distanza è un grave rischio per i minori che vivono nei contesti svantaggiati. La testimonianza che arriva invece dal territorio terramano. Il distanziamento non ferma la missione educativa. Ecco come l'istituto comprensivo Falcone e Borsellino Teramo 5 affronta la didattica in questo periodo. Proseguiamo con le altre pagine del quotidiano La Città. Dalla crisi sanitaria alla crisi economica è un intervento di Alfredo Nepa, imprenditore ed esperto in scienze economiche internazionali. Un grande errore, dice Nepa, a paragonare la situazione attuale con quella del 2007 e la grande depressione del 1929. Gli altri titoli, altro intervento in questo caso psicologo Ernesto Albanello, il principio del piacere e della realtà, dice Albanello, immaginiamo un lentissimo processo di uscita dalla quarantena perché il contagio è solo ridimensionato. Pasqua amara per i lavoratori di ATR Veco. I sindacati tornano a chiedere un impegno concreto alla regione per i 200 lavoratori senza sostentamento. Le pagine culturali curate da Simone Gambacorta basta con la retorica usa e getta. Parola di sociologo, la pandemia vista da Domenico De Masi. Puntare sul telelavoro vuol dire avere più tempo libero, così migliora la qualità della vita. C'è proprio un'intervista realizzata al noto sociologo Domenico De Masi. Li spalla l'addio a Pallozzi e se ne va l'artista amico di Guttuso. Per lo sport il titolo riguarda il futuro del calcio a breve medio termine. Medici dello sport, protocollo per la ripresa. La Federazione Medico Sportiva Italiana dice per i dilettanti proseguire lo stop anche dopo il 13. Le linee guida per il futuro, screening ad hoc per le discipline sportive professionistiche, per la prevenzione e un monitoraggio costante degli atleti anche in relazione a tutti gli ambienti di gioco comuni. E intanto il basket ha deciso di fermare definitivamente la stagione in corso. Possiamo fermarci qui con il quotidiano La Città e gli ultimi minuti della nostra segna stampa torniamo a dedicarli al messaggero per le principali notizie nazionali del quotidiano. Avevamo già letto insieme la prima pagina, vediamo quali sono le notizie pubblicate quest'oggi sul fronte nazionale. Si parte con anche in questo caso gli scenari fase 2, gli esperti frenano ma il premier Conte dice si deve ripartire tenuta del paese a rischio. Il comitato scientifico avverte il governo basta poco per restituire vigore al virus. Il premier assicura massima cautela però la serrata non sia infinita e iniziano i governanti a mettere giù il programma per la ripresa. Nel taglio basso, questa notizia è ripresa anche in prima pagina, mascherine e la retromarcia dell'OMS danno una falsa sensazione di sicurezza mentre per regioni e comuni insomma stanno andando un po' in ordine sparso. C'è chi le sta obbligando ai propri cittadini invece il Lazio frena se non sono lavabili difficile introdurre l'obbligo. A proposito dei scenari per la riapertura ecco quali potrebbero essere via libera per gradi prima le aziende poi gli spostamenti. Dopo Pasqua riapriranno alcune attività farmaceutica, alimentari che in realtà non si sono mai fermati e meccanica superato il primo maggio l'entamento per le persone. Ancora qualche titolo, le scelte dell'Eurogruppo, l'Europa cerca l'accordo duello sui covid bond e BCE triplica gli acquisti. Trattativa nella notte per trovare un punto d'incontro, tiene l'asse coi francesi sul fondo. Berlino vuole il rinvio, veto dell'Olanda sarà reso ne noto oggi l'esito del negoziato. La posizione dell'Italia, niente patti al ribasso ma i falchi gelano Roma e Parigi. L'avvertimento di Conte a von der Leyen, responsabilità comune, serve coraggio. L'alleanza con la Francia regge ma si incrina sul salva stati light. Le misure del governo per quanto riguardano le imprese. Tempi lunghi e burocrazia per ottenere i prestiti, tutti i dubbi delle imprese. Per i crediti fino a 25 mila euro minimo 10 giorni. Per gli altri servirà l'istruttoria. Le banche chiamate a valutare i bilanci, i timori di tributaristi e commercialisti. Sempre a proposito di norme a sostegno delle attività imprenditoriali, ora scatta la tregua fiscale ma a giugno si dovrà pagare. Sospensione di due mesi per le aziende che hanno avuto perdite a causa della crisi. La delusione dei commercialisti sarebbe stato meglio allungare le scadenze a settembre. La fotografia dei contagi in Italia. È iniziata la discesa e poi c'è il caso degli errori nei test. Malati in crescita del 2% ieri dal 13 marzo, mai così pochi. L'Istituto Superiore di Sanità osserva una discesa della curva ma dati sottostimati. Rezza dice cautela sui controlli sireologici, c'è chi torna positivo dopo due tamponi negativi. Insomma c'è ancora un po' di confusione, ovviamente la comunità scientifica è ancora nel pieno degli studi e delle analisi di questo virus. Il Ministro Speranza intanto comunica indice di trasmissione sotto 1. Andreoni, che cerchiamo adesso di capire chi è, il direttore scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive e virologo del Policlinico Torvergata di Roma, che ha detto i risultati delle prove dipendono anche da chi ha eseguito i campioni. Dunque c'è ancora disomogeneità nei risultati dei test e nell'efficacia degli stessi test. Possiamo adesso ancora uno sguardo all'emergenza globale. Trump che in una delle sue dichiarazioni a volte fuori dagli schemi dice OMS filo cinese, ma lui ignorò gli allarmi. Due documenti svelano. Donald fu avvisato e lui annuncia basta fondi americani all'agenzia ONU. Contagi, la sola New York supera l'Italia. Dorsey, amministratore delegato di Twitter, dona un miliardo. Il premier britannico Boris Johnson aiutato con l'ossigeno, il nodo della guida del governo, il comunicato ufficiale di Downing Street non ha la polmonite del sud di morale. Anche il ministro Gov è in isolamento e i media si domandano chi comanda sul serio. A Londra possiamo andare a chiudere. Ultimi titoli. Economia Istat consumi in caduta del 9,9 per cento se il blocco durerà fino a giugno. Per l'istituto è uno shock senza precedenti per l'economia. Sono 2 milioni e 200 mila le imprese ferme a causa dell'emergenza. L'ONU calcola che la pandemia cancellerà fino al 6,7 per cento delle ore lavorate nel mondo, cioè 195 milioni di posti. Davvero quindi uno scenario globale anche a livello economico disastroso. L'ultimo sguardo lo dedichiamo allo sport. Un calcio mai visto prima. La FIFA ha emanato nuove linee guida per poter concludere i campionati. Estensione dei contratti e mercato flessibile. L'ipotesi più estrema è chiudere ad ottobre e ripartire con la stagione 2020-21 a gennaio, seguendo l'anno solare. Lo si spiega meglio con questa sorta di timeline grafica che spiega come potrebbero essere organizzate le competizioni calcistiche nel 2021. Ad esempio Serie A, la partenza del campionato a gennaio. A maggio pausa pre-europei. Gli europei si disputeranno dall'11 giugno all'11 luglio dopo il rinvio di quest'anno e poi ci sarà la finestra dei giochi olimpici di Tokyo, anche essi rinviati e si disputeranno l'anno prossimo dal 23 luglio all'8 agosto. Le vacanze dei giocatori a metà agosto. La ripresa del campionato a metà settembre per concludersi con l'assegnazione dello sculetto a dicembre 2021. Questo potrebbe essere uno scenario non escluso, anzi forse direi suggerito dalla FIFA per il calcio del prossimo anno. Intanto la Serie A, come dire, unita sotto la proposta di Lotito, test, tamponi e poi in campo il patrone Lazziale, l'ho detto un mese e mezzo fa, adesso l'idea piace a tutti. Stirpe, campionati finiti oppure in tribunale. Questa la, come dire, la visione del presidente del Frosinone. E poi la chiusura del basket, la Serie A chiude i battenti. La federazione prende atto dell'impossibilità di ripartire. Il presidente Petrucci, decisione di buonsenso condivisa con la Lega. Quindi fine ai campionati di Serie A e Serie A2. Quelli di Serie B e tutti i campionati regionali erano già stati dichiarati conclusi. Così come è conclusa questa nostra segna stampa per oggi, dunque termina qui di prima mattina che ritroverete domani sempre puntuale. Alle ore 7, gli appuntamenti della giornata su Super J. Alle 14 la prima edizione del telegiornale. Alle 15 e 30 la diretta pomeridiana con J Live. Oggi troverete alla conduzione Rino Orsatti. E poi seconda edizione di J News alle ore 19. È davvero tutto, vi ringrazio per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.